Abbiamo iniziato bene l'anno 2015, ci stiamo preparando per la gara contro il Milan e siamo carichi a mille. Ogni partita in Serie A è difficile, si è visto nelle ultime tre gare, anche con il Cesena abbiamo un po' faticato. Quindi ogni partita viene preparata e affrontata nella maniera giusta. Meglio non pensarci più, potevamo stare meglio in classifica, però ormai è passato. Guardiamo al futuro e pensiamo subito alla gara con il Milan. Il Milan è una grande squadra, ha battuto il Real Madrid non a caso, quindi dobbiamo stare attenti perché è un Milan forte, con giocatori veloci, tecnici e vogliosi di vincere la gara. Ma lo siamo anche noi. Sì, sicuramente in campionato mi aspettavo qualcosa in più, però sto facendo anche tanto lavoro sporco, quindi va bene così per adesso. Poi speriamo che, come al solito, nel giro di ritorno mi accendo un po' di più. Sono molto soddisfatto, contento, so che posso migliorare ancora tanto, però per quello che abbiamo fatto nel 2014, soprattutto per la salvezza e per quello che ho contribuito da gennaio fino a maggio, sono rimasto molto contento. Chiedo più gol, solo questo, e più punti per Sassuolo. Ormai tifo Sassuolo, non tifo più Milano. Ormai tifo più Milano.